Una goccia più una goccia fa un'oceano, a cura di Biagio Mannino. Una goccia più una goccia fa un'oceano. Con questa affermazione vorrei iniziare questo percorso, un percorso che ha un'intenzione, un'intenzione ben specifica, quella di portare la voce, la testimonianza dei veri protagonisti, se vogliamo, della vicenda che ha coinvolto tutti in Italia come altrove nel contesto mondiale, quel 2020, quel punto di fine, quel punto di inizio, quella conclusione, se vogliamo, di un certo modo di interpretare la nostra quotidianità, la nostra normalità e darne inizio ad una nuova che però ancora oggi è difficile da interpretare, soprattutto di fronte ai dubbi e alle tante questioni ancora irrisolte, o meglio, tutte irrisolte, che riguardano appunto gli accadimenti che sono avvenuti intorno al fenomeno della pandemia. Quella pandemia che di fatto ci ha portato improvvisamente a guardare tutto intorno a noi in modo sostanzialmente diverso. Le pandemie sono sempre state presenti nel contesto dell'umanità, della storia dell'umanità, ma quanto portato invece dall'uomo e dalla struttura organizzativa dell'uomo, ebbene non ha avuto dei precedenti. Dei precedenti che ovviamente ci portano a guardare soprattutto quanto invece è stato fatto e quel quanto fatto è motivo di grande dubbio e perplessità, anche da un punto di vista della stessa tutela dei diritti che sono sanciti, scritti, presenti nel contesto costituzionale. Ebbene abbiamo vissuto, abbiamo vissuto il lockdown, abbiamo vissuto le situazioni legate al mondo del lavoro, la precarietà, le difficoltà, abbiamo vissuto obblighi di tutti i tipi, abbiamo vissuto anche la vicenda dei vaccini, con quella obbligatorietà diretta, indiretta, che progressivamente è andata ad affermarsi. E anche tutto ciò che ne è conseguito, perché non sono mancate le proteste, le proteste nel contesto della società italiana, non è mancato anche quell'elemento brutto, brutto che caratterizza le epoche e i momenti della storia più cupi, ovvero la discriminazione. Tanti aspetti, tanti aspetti da valutare, da considerare, come detto, alla ricerca di dare risposte ai tantissimi quesiti che sostanzialmente ci portano a una domanda sola. Ma che cosa è successo effettivamente? Ecco perché quell'affermazione, una goccia più una goccia, fa un oceano. Perché la raccolta delle diverse testimonianze di chi ha vissuto indifferentemente quale situazione, ebbene tutto questo non può nient'altro che portare in una direzione, quella di ricordare. Ricordare queste vicende come elemento fondamentale per poter poi proseguire alla ricerca delle risposte. Risposte che riguardano un po' tutti, riguardano ovviamente chi ha vissuto in modo più incisivo quel percorso dell'obbligatorietà vaccinale rifiutandola, oppure chi l'ha accettata, e oggi si trova di fronte alla problematica che sempre di più sta emergendo, ovvero quella legata agli effetti avversi. Inizia questo percorso, inizia questo percorso con una testimonianza, la prima se vogliamo, che vede ospite Lorenza Lanzetta. Lorenza Lanzetta, architetto, insegnante di architettura in un liceo artistico di Asti, ebbene ci racconta la sua storia. Un benvenuto a Lorenza Lanzetta, Lorenza Lanzetta, architetto, insegnante di architettura presso un liceo artistico ad Asti, e racconterà oggi la sua storia, la sua storia che ovviamente si inserisce in quel quadro di testimonianze che ci hanno visto tutti i protagonisti a partire da quel 2020, quel 2020 che normalmente definisco come il punto di conclusione, il punto di fine e il punto di inizio. Alla fine di una normalità, all'inizio di una nuova normalità, ma completamente differente da quella precedente. Benvenuta Lorenza. Bentrovati, grazie. Lorenza, innanzitutto, come vivevi quel momento, quella vigilia, quella situazione in cui si sentivano tante notizie provenire dalla Cina, ma in ogni caso erano laggiù, erano lontane? Allora, diciamo che tutta questa situazione generale, potremmo dire globale, nel mio caso si è andata poi necessariamente a intrecciare ad una situazione personale non semplice, perché, diciamo, tra la fine proprio del 2019 e l'inizio del 2020, io ho scoperto di avere un tumore, un tumore raro, maligno. E quindi, diciamo che sono stata una persona che proprio nel periodo d'inizio della pandemia ha dovuto frequentare gli ospedali con una certa assiduità. e quindi certamente vivevo con un po' d'apprensione quello che stava succedendo e mi rendevo conto che c'era qualche cosa di assolutamente inusuale. Quindi vari lockdown, queste misure, eccetera. Dall'altra però cominciavo a farmi delle domande, perché proprio frequentando gli ospedali vedevo che da una parte c'era questa cosa della pandemia, insomma, queste restrizioni, dall'altra però c'erano delle cose che non erano coerenti. Faccio un esempio banale. Magari ero in ospedale ad attendere e di fronte a me c'erano le macchinette per le bibite e lì vedevo personale sanitario così che non rispettava magari le distanze, no? Quindi mascherina abbassata, vicini e cose di questo tipo. Per cui mi chiedevo, appunto nella mia ignoranza, ma non ho capito poi questo virus funziona se io sono in corsia. Un attimo dopo, davanti alle macchinette, c'erano anche sei, sette persone abbastanza vicine, non c'è più. E poi, per esempio, ecco, i primi tempi furono abbastanza difficili perché non si trovavano i disinfettanti, quindi io, per esempio, mi fabbricai in casa un gel disinfettante che non si trovava, mi ricordo, la mucchina, così come altri prodotti. e anche nell'ospedale ricordo che ai primi tempi appunto non si trovava, non c'era neanche il sapone, non c'era per lavarsi le mani, queste cose qui. Quindi, non so, diciamo per la mia particolare esperienza c'erano da una parte questo racconto, questa narrazione, la preoccupazione, c'era questo, dall'altro accoglievo dei segnali di non coerenza che mi hanno lasciato un pochino perplessa e mi hanno poi portato a farmi una serie di domande. Tu ti trovi quindi a vivere la doppia esperienza perché, appunto, come dicevi, ti viene diagnosticata questa malattia che richiede ovviamente le cure del caso nel momento in cui la sanità entra sostanzialmente in una fase di emergenza mettendo in evidenza anche probabilmente i punti di debolezza che probabilmente erano già benché presenti. Ma sì, diciamo che un'altra delle cose che mi colpiva che avevano dato come protezione a questi operatori quei camicini di tessuto o non tessuto che erano praticamente gli stessi che mettiamo quando andiamo a fare la TAC o un qualche... quindi quelli sostanzialmente di un tessuto o non tessuto molto leggero che a me faceva un po' ridere, cioè, metti sto coso addosso, fammi capire che protezione ti dà da un virus. cioè, non so, quindi mi lasciava un pochino perplessa tutta questa situazione. Piccoli segnali, diciamo, piccoli segnali che ti facevano riflettere nel momento in cui ovviamente tu ti trovavi a frequentare gli ospedali. Allora siamo nel... guardavo tutte le settimane, quindi per me era un... ero lì, attendevo e osservavo e guardavo quello che succedeva, quindi così. Il 2020 procede, procede tra tutta quella situazione caotica, lockdown, ci chiedevamo tutti quanti che cosa stesse accadendo, dove saremmo potuti andare a finire e, come detto, tu sei negli ospedali per la tua malattia hai modo di vedere e di vivere la situazione. Passando il tempo, però, ovviamente le cose cambiano nel momento in cui si comincia a parlare di vaccini, perché se non sbaglio la tua malattia aveva una relazione non favorevole con i vaccini. Ma allora, io avevo appunto scoperto di avere questo tumore, in realtà probabilmente lo avevo da più anni, ma mi avevano sempre detto che non era cosa di cui preoccuparmi, mentre invece io sentivo che c'era qualcosa che non andava. Ed avevo ragione, perché nel momento in cui abbiamo fatto un acqua aspirato, insomma, è venuto fuori che effettivamente si trattava di un tumore raro e con una componente maligna. Io purtroppo, diciamo, ho dovuto operarmi proprio ad aprile 2020, la prima volta. Ho cercato, ho chiesto se potevo evitarmi un ricovero proprio, diciamo, nel momento clou della pandemia, perché, dicevo, se non ce l'ho, Covid non mi è ancora venuto, magari lo prendo in ospedale. quindi volevo evitare questa cosa di dover affrontare un intervento. Purtroppo mi hanno detto che non era possibile, quindi ho affrontato questo intervento. Ecco, volevo anche dire che proprio perché io avevo questa situazione delicata da gestire, avevo anche una, anche questa rara, una patologia autoimmune rara che si chiama Bechet e che è una vasculite sistemica, quindi è una malattia che può portare ad infiammare tutti i vasi sanguigni, quindi può colpire i vasi, dai vasi di piccolo calibro a quelli di grande calibro. E quindi proprio per questo motivo mi sono messa ad approfondire sul tema, perché, sia perché dovevo andare in ospedale, ero obbligata, poi mi sono dovuta anche operare, quindi ho cercato di capire se si poteva fare una sorta di prevenzione per evitare di prendere il Covid. E quindi, per me sono stati utili i libri che ha scritto Massimo Citro della Riva, perché in una sostanziale assenza anche del mio medico di base di allora, c'erano delle indicazioni che per me sono stati utili. e lo anticipo, io il Covid l'ho preso solo dopo due dosi di vaccino. Prima sono sicura di non averlo preso, perché facevo periodicamente anche dei serologici e ero riuscita, diciamo, pur dovendo frequentare gli ospedali, a non prendere questo virus. Sì, della situazione ai vaccini si comincia a parlare e io chiedo al mio medico di base come ci dobbiamo comportare. Il medico di base mi dice ma attendiamo, vediamo, era il periodo in cui si parlava di AstraZeneca e mi dice vediamo, attendiamo, devono arrivare altri vaccini e via così. Quindi io sono andata avanti appunto controllandomi, andando al lavoro, andando in ospedale, facendo periodicamente dei tamponi e dei serologici per controllare la situazione e quindi sono andata avanti così. Successivamente, quindi finito l'anno scolastico, io ho di nuovo chiesto al mio medico di base consiglio data la situazione perché intanto anche proprio nella cerchia di persone che io conoscevo cominciavano a venire fuori degli effetti avversi. Quindi nella mia ristretta limitata cerchia di persone già c'erano tre persone che io conoscevo che avevano avuto la paralisi di Bell e una ad Asti e altri due io sono napoletana quindi una signora a Napoli e un'altra insomma e un'altra persona a Torino. Quindi ed ero abbastanza preoccupata anche solo di questa cosa perché il mio tumore era alla parotide e quindi io avevo subito un intervento ero passata attraverso una emiparesi facciale con problemi all'occhio dal lato operato e io per riprendermi da questo insomma mi ero dovuta molto impegnare per giunta da sola perché l'assistenza sanitaria in quel momento non era ottimale quindi io ho fatto il recupero come dire l'ho fatto la riabilitazione praticamente per conto mio e quindi la sola idea che mi potesse venire una paralisi nuovamente e io non potessi uscirne bene come ne ero uscita quindi rimanendo che non potevo parlare che non potevo masticare magari con l'occhio che restava aperto insomma era un'ipotesi che mi terrorizzava perché io insegno e quindi se non posso parlare se non mi posso presentare in aula mi chiedevo come faccio a lavorare quindi già solo quello mi aveva preoccupato e quindi avevo anche fatto domande perché sempre avendo io questa patologia autoimmune per quanto riguardava le normali vaccinazioni per l'influenza stagionale il medico di base mi aveva lasciato sempre libera di decidere perché ha detto lei rischia sia che lo faccia sia che non lo faccia perché magari lo fa e le si innesca una reazione autoimmune più o meno violenta non prevedibile cioè lei adesso è riuscita ad avere ad ottenere un equilibrio nella gestione della patologia autoimmune cosa che devo dire è una punta di orgoglio ho raggiunto per per mie considerazioni quindi ero riuscita a gestirmi questa patologia senza più prendere gli immunosoppressori che mi avevano provocato un sacco di problemi cortisone e via così quindi lei è una situazione di equilibrio in cui gestisce certo non sono malattie delle quali si guarisce però i dolori erano gestibili e la sintomatologia era abbastanza sotto controllo quindi che ne sappiamo che cosa può succedere e allora io ponevo queste domande come mai riguarda questa cosa mi dite che dovrei vaccinarmi quando poi non sappiamo che cosa può succedere che mi si innesca un qualche cosa che io non posso prevedere e via così come mai questa situazione e quindi purtroppo io non ricevevo delle risposte soddisfacenti a queste domande sensate e quindi ero sempre ero sempre più come dire perplessa anche perché non solo le ponevo al medico di base ma lo possa anche a qualche medico vaccinatore perché ho detto la mia situazione è questa e tutti quanti mi dicevano è uno di quei casi nei quali bisognerebbe ben valutare diciamo il bilancio costi-benefici come si fa a ben valutare questo alla fine questa domanda non c'era mai una risposta perché alla fine il tutto si traduceva in un perché non venivano incoraggiati neanche degli esami che potessero più approfonditi che potessero magari dire no questa persona è meglio che non lo faccia e via così per cui a queste domande ecco ripeto non c'era mai c'era una considerazione sì bisognerebbe valutare molto bene il suo caso però a questo condizionale poi non c'era mai un seguito perché non si capiva come avrebbero potuto ben considerare e ripeto questa buona considerazione poi di fatto non c'è stata di fronte a questo ecco Lorenza diciamo la tua vicenda personale che appunto come abbiamo detto abbina due situazioni la malattia alla pandemia ma aggiungiamo anche il fatto che c'è il lavoro e tu come insegnante ovviamente vieni particolarmente coinvolta nel momento in cui entra in ballo il discorso dell'obbligatorietà vaccinale sì e infatti io sono una di quelle persone che proprio perché c'era da una parte questo dirmi eh sì il suo caso veramente complesso eh sì il suo caso meriterebbe eh sì eccetera però poi non c'era mai dire e allora che protocollo seguiamo come facciamo non c'era mai questo c'era un sottrarsi poi al prosiego di tutti questi ragionamenti non c'era nessuno che prendesse responsabilità reali eh in questo senso e allora io prudenzialmente ho ritenuto dire ok la prevenzione che ho fatto è stata utile eh finora quindi continuo a farla per conto mio e eh nello stesso tempo eh sono andata al lavoro sono fra le persone che per poter lavorare si è sottoposta a tre tamponi settimanali per tanti mesi e alla fine diciamo sono stata purtroppo costretta a vaccinarmi perché nessuno di questi medici che pure eh diceva sì so caso sì perché tra l'altro sono anche un soggetto allergico pluriallergico insomma tutte queste cosine qui eh nessuno prendeva responsabilità anche a farmi un'esenzione temporanea eh qualcosa che seguisse un'idea di prudenza e quindi io mi sono vaccinata molto tardi eh però appunto ho fatto questa prima dose eh Pfizer e i sintomi diciamo di un un evento avverso diciamo ci sono stati dopo già la prima dose eh come si sono manifestati allora ci sono stati i primi sintomi che erano un po' quelli che mi attendevo premetto anche che io sono arrivata alla vaccinazione con uno stato di diciamo infiammatorio molto molto basso quindi la malattia mia autoimmune era sotto controllo quindi ci sono arrivata tra virgolette nelle migliori condizioni possibili eh ho fatto la prima dose a era di gennaio a dicembre a fine dicembre ho fatto anche un controllo al cuore che era posto fondamentalmente e eh quindi insomma sono andata a vaccinarmi in buone condizioni nonostante i miei problemi ero in buone condizioni eh c'erano alcuni sintomi che mi aspettavo quindi il rialzo febbrile eh la nausea il mal di testa questa roba qui poi eh immediatamente quasi immediatamente quindi dopo un circa una settimana qualche giorno mi sono comparsi dei noduli su alcune delle dita di entrambe le mani in modo simmetrico e questa è una diciamo una manifestazione reumatologica autoimmune abbastanza chiara e e poi la cosa più diciamo seria immediata è che ho iniziato ad avere problemi di affanno problemi respiratori eh e poi appunto da controlli successivi insomma io ho avuto entrambi i polmoni le formazioni a vetro smerigliato che sono tipiche del covid io il covid non lo avevo né lo avevo fatto la certezza che tu il covid non lo avevi non lo avevi appunto fatto derivava dal fatto che periodicamente facevi delle analisi ma intanto facevo i tamponi con la frequenza con la frequenza che ho detto e poi faceva anche i seriologici quindi insomma se l'avessi fatto il covid comunque anche gli stessi medici sicuramente non è il covid però poi per non ammettere che potesse trattarsi del del vaccino hanno preferito lasciarmi senza diagnosi senza cure quindi io sono rimasta con una grossa difficoltà a proprio respirare cioè io non potevo più stare stesa posizione orizzontale non ci potevo stare camminavo pianissimo come una vecchia cioè io con i miei problemi sono sempre stata molto attiva ok quindi ci mettevo dieci minuti al giorno a piedi per arrivare sul posto di lavoro me ne occorrevano trenta e il giorno in cui dovevo andare in una sede che era poco poco lontano ma semplicemente con una strada con un pochino di pendenza per non arrivare al lavoro con l'affanno quel giorno lì io prendevo il taxi e ho deciso di continuare a lavorare pur essendo in quelle condizioni ho fatto un accesso in pronto soccorso non lo racconto qui perché sarebbe magari ne facciamo un'altra puntata non ne parleremo per cui appunto uscita lasciata fuori senza aver fatto poi l'attac che mi hanno detto che avrebbero fatto e quindi l'ho fatta poi successivamente per conto mio ed è il risultato effettivamente che io avevo queste formazioni avevo smediato dicevo non avevo il covid perché mi hanno in pronto soccorso detto se vuole essere assistita con questa sintomatologia quindi la saturazione basta eccetera la dobbiamo ricoverare in mezzo ai covid e quindi mi hanno tenuto più di 24 ore in mezzo ai covid forse sperando che assumessi diciamo che prendessi il virus perché ero arrivata in ospedale con un tampone fatto in farmacia negativo e per loro non aveva alcun valore me l'hanno fatto loro il tampone rapido ed era negativo per fare il tampone molecolare mi hanno fatto attendere la mattina del giorno dopo ed era negativo anche quello ok quindi il danno ai polmoni che mi hanno fatto è un danno dovuto al vaccino non avevo il covid non l'avevo preso e e questo per me è stato anche uno stimolo in più per approfondire per capire perché mi hanno lasciato veramente senza una io non avevo cosa prendere il mio medico di base senza io non lo so mi aveva dato una confezione di ventolin di quelle che detto io non glielo potrei neanche dare amare lei poi se lo può fare una spruzzatina una volta al giorno se no poi le viene la tachicardia che era un altro dei problemi che poi ho iniziato ad avere e io mi giocavo questa spruzzatina perché in quella situazione io ho detto se resto a casa aspettare l'embolo che mi ammazza non ci sono quindi con tutto come stavo ho preferito farvi questi 30 minuti a piedi per andare al lavoro e la spruzzatina di ventolin me la facevo un attimo prima di entrare in aula in modo da diciamo di riuscire a parlare quindi a tenere tenere il discorso e ho preferito far così al medico di base in quel caso assolutamente inetto mi spiace dirlo perché avevo grande stima prima della pandemia di questo di questo medico poi l'ho lasciato appunto perché poi ho scoperto le cose per conto mio mi sono indignata ho detto guardi io un'altra volta in pronto soccorso non ci vado se ho questa sintomatologia perché visto che niente mi fanno mi mettono in mezzo covid e lì veramente magari rischio di prendermelo stando male di un qualcosa che non sappiamo cos'è e a quel punto ho detto l'unica cosa lei mi fa la prescrizione di una bombola d'ossigeno da tenere in casa e io la sera mi faccio quindi io la sera mi sparavo un po' d'ossigeno se mi sentivo così male prendevo mi mettevo questa cosa respiravo e sono andata avanti in questo modo poi ovviamente ho studiato per conto mio per darvi una spiegazione di quello che mi fosse successo e quella è stata una delle cose importanti qual è stata poi una delle conseguenze che il 2 febbraio quindi a gennaio avevo fatto questa vaccinazione il 2 febbraio io sarei dovuta andare a Pavia per sottopormi ad adoroterapia perché nel frattempo era ricomparso un nodulo sempre alla parotide superiore che non era stata asportata col primo intervento completamente e quindi il tumore era ritornato post vaccino quel tumore che era stato sempre molto lento devo dire come sua caratteristica ha iniziato a crescere in modo più rapido quindi ad avere una crescita più veloce e una delle cose brutte è stata che io ero riuscita io assolutamente volevo evitare il secondo intervento perché ripeto il mio terrore era di rimanere nuovamente paralizzata e di rimanerci paralizzata al viso quindi non poter insegnare non poter parlare ecc quindi avevo trovato il questo centro di Pavia che Locnau che mi aveva accettato per l'adroterapia l'adroterapia è una forma di radioterapia che si fa ovviamente stando perfettamente immobili stessi io questa cosa non l'ho potuta fare perché non potevo più stare in posizione orizzontale io per tanti mesi ho dovuto dormire seduta perché non respiravo non potevo tenere la posizione ferma era per me difficile anche per un qualunque esame quindi anche fare una risonanza magnetica per esempio era problematico perché io non potevo stare in orizzontale e non potevo stare ferma non ci riuscivo non respiravo andavo in apnea accanto a questo problema poi c'era anche la tachicardia al riposo c'era oppure non appena mi alzavo in piedi dolori al petto e quindi solamente dopo quindi ho fatto vari controlli c'erano anche stavo bene stavo bene in realtà avevo anche una perimiocardite secca di tipo autoimmune quello che mi viene da pensare è che probabilmente i cardiologi che mi avevano visitato cercavano il versamento ma il versamento può anche non esserci quindi si può avere una perimiocardite secca quindi c'era il distacco dei foglietti c'era e quindi io mi sono tenuta questa perimiocardite praticamente l'ho gestita così a come andava per dare un'idea io non so se dovevo lavare i piatti la fatica di lavare i piatti mi portava ad avere che i muscoli delle braccia mi tremavano era tutto veramente molto molto difficile tutto molto molto difficile ecco Lorenza il tempo purtroppo è volato ma in un minuto ti chiedo una cosa perché hai deciso di raccontare? ho deciso di raccontare come ho deciso a un certo momento di diciamo di aiutare il comitato Ascoltami che si occupa appunto di cercare appunto di supportare le persone danneggiate perché non volevo volevo cercare di trovare il modo di alleggerire il carico ad altre persone cioè mi dispiaceva che altre persone potessero provare come l'ho provato io sulla mia pelle l'abbandono totale da parte dei medici il fatto di dover io delle cose da sola le avevo capite avevo studiato avevo capito mi ero data delle spiegazioni avevo anche capito quali fossero alcuni esami da fare utili e quindi pensavo che fosse opportuno dirlo anche ad altre persone confrontarmi con altre persone io apprendere da loro e loro magari apprendere da me per questo voglio raccontare voglio raccontare perché i danneggiati sono tanti e perché voglio anche che chi non è danneggiato prenda atto che il problema c'è per la mia esperienza credo che ci siano anche molte persone che non stanno bene ma non collegano di loro non stare bene alle dosi che hanno fatto questo mi sembra anche una cosa preoccupante che è frequente purtroppo questo per la mia esperienza poi bene Lorenzo ovviamente noi continueremo in altre occasioni a parlare della tua disavventura e ovviamente a fare anche delle valutazioni un po' più ampie perché notizie di questi giorni sono legate appunto alla commissione d'inchiesta che dovrebbe iniziare i propri lavori a breve speriamo appunto che questo possa avvenire così come la comunicazione di AIFA per quanto riguarda le autorizzazioni o meglio le non autorizzazioni del farmaco vaccino come strumento di limitazione della diffusione del virus da cui tutto l'impianto che si lega anche all'obbligatorietà diretta indiretta dello stesso vaccino grazie a Lorenza Lanzetta grazie a te ciao buona giornata grazie per aver ascoltato una goccia più una goccia fa un oceano a cura di Biagio Mannino grazie a te grazie a te